23 giugno 2015 Altra gara, altra spiaggia Questa volta le squadre sono miste e variegate Allora, riconosciamo Andrea con una maglia gialla Nicolò in porta Il difensore centrale Luca Nuzzo con la maglia gialla Varraso con la maglia gialla, Mattia con la maglia gialla Quindi in definitiva il gruppo Ives 2002 in trasferta a Calambrone Sono con la maglia gialla Questa volta senza calze Fuori 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 Luca faccio il saluto Lunga Nostra, nostra, nostra La maglia gialla Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Facci un saluto, Jovino facci un saluto. Facci un saluto, Jovino facci un saluto. Facci un saluto. Oh, Nico facci un saluto. No, 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 no. Goal. Goal. Goal in diretta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.